Nel marzo del 2009 abbiamo istituito uno sportello di ascolto. Il sindaco, il dottor Ignazio Spanò, nonché assessore ai servizi sociali, dopo io stessa aver presentato un progetto redatto da me in medesima, lo ha avallato e ha dato la possibilità a Gioiosani di usufruire di un così poteroso servizio. Uno sportello di ascolto che rientra nella visione di un centro di ascolto. Che cos'è uno sportello di ascolto? Uno sportello di ascolto è uno sportello di aiuto. Vuole essere anche un organo propulsivo per quanto riguarda la diffusione della cultura educativa. E' un organo rivolto a quanti hanno necessità di dialogare, necessità di mettere a nudo i propri problemi senza bisogno di essere giudicati, senza soprattutto sentirsi giudicati. Questo avvalora molto un comportamento di tipo reattivo che porta l'utente ad avvicinarsi allo sportello. Lo sportello ad oggi ha un'utenza, anche per noi, diciamo, denominata un'utenza corposa. Abbraccia tutte le età, il numero è notevole e si sta allargando in maniera esponenziale. Tant'è che siamo alla ricerca di operatori. Operatori gratuiti perché lo sportello di ascolto è un servizio gratuito. È un servizio gratuito così come gratuita è la nostra professionalità. È rivolto ai giovani, agli adolescenti, ai bambini, è rivolto ai genitori, è rivolto agli educatori ed è rivolto a quanti comunque si sentano o non si sentono nelle condizioni di svolgere appieno la mansione che gli è stata attribuita. Lo sportello di ascolto è considerevole di figure di un certo rilievo. Sono figure che fanno capo a quelle proprio specifiche. Abbiamo lo psicologo, abbiamo l'educatrice, abbiamo l'assistente sociale, abbiamo anche un parroco che in questo momento purtroppo è assente per motivi personali, ma che è stato di grande aiuto anche perché nei suoi trascorsi ha avuto dei contatti con la gioventù gioiosana. L'utenza che in questo momento fa capo al servizio di ascolto è sì un'utenza locale, ma non solo. La diffusione di tale progetto ha dato via una serie di incontri anche da parte del comprensorio. Adesso do la parola ai miei collaboratori, o meglio sono io la loro collaboratrice e iniziamo con il dottor Paolo Sidoti Olivo che spiegherà la propria funzione così come quanti sono seduti attorno a questo tavolo. Allora ringrazio quindi la dottoressa Scaffiti per la presentazione. Come dicevo appunto questo sportello si avvale di numerosi esperti. Io appunto sono uno psicologo, mi occupo di famiglie, coppie, genitori, adolescenti. In particolare in questo sportello abbiamo avuto la possibilità di avere dei casi riguardanti appunto sia adolescenti che anche famiglie e genitori. Il nostro è un intervento non direttamente di ascolto, di accoglienza e di condivisione. Naturalmente non giudicante e privo dei processi di etichettamento che di solito purtroppo avvengono nella nostra cultura. La funzione dello psicologo è quella appunto come dicevamo di ascolto per cercare di innanzitutto infondere una cultura psicologica nei nostri utenti e anche cercando di dare loro dei nuovi punti di vista, delle nuove lenti diciamo con cui vedere i cambiamenti. Sono Antonella Milagliotto, sono un'assistente sociale che do gratuitamente il mio contributo professionale in questo sportello d'ascolto. Sono stata coinvolta dalla dottoressa Scaffidi e mi fa piacere essere insieme a queste equip di professionisti per appunto contribuire per quanto mi è possibile nella soluzione o comunque nell'affrontare dei problemi che a livello sociale, familiare, psicologico o meno toccano le famiglie di Gioio Samarea. Professionalmente io do il mio contributo accogliendo diciamo le persone e poi a secondo diciamo delle problematiche emergenti facendo una breve o comunque un periodo di trattamento per poi diciamo passare in maniera più specifica alle altre figure che con me collaborano in questo spazio d'ascolto. Vorrei ringraziare la dottoressa Scaffidi, nonché la coordinatrice del progetto di questo sportello di ascolto. Io sono un'educatrice professionale, l'educatrice è proprio la figura dell'educatrice, è un operatore specializzato che accompagna il soggetto nel suo percorso di crescita e interviene nel disagio in genere e aiuta proprio la persona a prendere coscienza di questo disagio e attuare i mezzi necessari per risolverlo cosicché la persona appunto possa raggiungere un benessere. In merito al servizio che è stato diciamo questo sportello, il servizio è gratuito e siamo a disposizione di tutta la comunità per qualsiasi diciamo tipo di problema. Lo sportello di ascolto è aperto una volta la settimana, tutti i mercoledì del mese dalle 16.30 alle 18.30. Ovviamente questo è un orario formale generalmente proprio per le necessità che si sono venute a verificare abbiamo sia anticipato che posticipato l'orario d'inizio e della fine. una cosa va sottolineata anche perché l'utenza si è avvicinata a noi proprio per questo è un servizio tutelato dalla privacy ed è un servizio che si occupa di alcuni comparti sia di un discorso sociale che educativo. Intanto noi offriamo consulenza, offriamo mediazione, offriamo formazione e sensibilizzazione. Questo è importante, proprio desidero nella fattispecie che arrivi all'utente perché già come dicevo l'utenza ha superato di gran lunga le aspettative e proprio per questo dato che è un servizio che ha dato dei grossi risultati desideriamo che la gente si avvicini sicura che è qui quello che verrà detto rimarrà proprio fra queste mura. Per concludere voglio ringraziare oltre le persone che sono sedute qui gli operatori che sono seduti qui accanto a me il parroco padre Danzì e le suore perché lo sportello è stato attivato presso l'asilo Regina Margherita, sito in via Mazzini. Loro sono stati veramente compiacenti a darci questa disponibilità e veramente non possiamo far altro che ringraziare. In ultimo voglio dire alla collettività che in questo momento ci sta ascoltando sia frequentatori del sito che chi lo vedrà in altri modi che appunto parlando di formazione lo sportello attiverà dei corsi di formazione per i genitori, per gli educatori, dei workshop che sono già in cantiere avendo un'attività programmatica densa e corposa. Grazie. Grazie. Grazie.